Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Bel tempo e clima decisamente mite sulla Valle Seriana, ma così come su gran parte dell'Italia. Come vedete l'animazione è proprio fra domenica e lunedì, quando temperature, pensate, superiore ai 22 gradi interesseranno tutta la nostra regione. Questo è dovuto all'espansione di un promontorio anticiclonico proprio in direzione delle nostre regioni alpine e vedete che soffieranno anche dei venti da nord e quindi avremo anche una componente favonica che favorirà l'aumento delle temperature proprio a partire dalla giornata di domani. Pensate che nella pianura padana si raggiungeranno temperature quasi estive proprio fra domenica e lunedì con punte di 24 gradi. Come andrà poi l'avvio di primavera? Vedete come le depressioni atlantiche con i fronti freddi associati saranno costretti a scorrere a latitudini più settentrionali mentre noi saremo ancora protetti da questo dominio anticiclonico. Il vero e proprio anticiclone della Zorra è quello che ci fa compagnia nel periodo estivo ha voluto proprio interessare le nostre zone in primavera. Vedete questo anticiclone che poi formerà un ponte con il suo analogo anticiclone presente ora sul Mar Nero e quindi noi saremo ancora protetti da questo vasto dominio dell'anticiclone. Vedete come anche l'animazione da satellite mostra gran parte dell'Italia sgombra da nubi ma un intenso sistema perturbato interessa le nostre due isole maggiori specie fra la Sardegna e la Sicilia con anche dei temporali e vedete anche come la regione della Tunisia e dall'Algeria sono ancora interessati dal maltempo mentre su gran parte dell'Europa splende ancora il sole. Da questa bella immagine da satellite si vedono ancora i rilievi alpini e prealpini ben ricoperti dalla neve. Ma come andrà il tempo nella giornata di domani? Che dire una giornata prevalentemente soleggiata. L'unico elemento di rilievo sarà il vento. Infatti abbiamo indicato un clima ventoso soprattutto in montagna al di sopra dei millimetri dove inizieranno a soffiare queste intense correnti settentrionali che poi si tradurranno nelle zone delle vallate alpine e così anche prealpine orobiche in Fön, in Favonio, che determinerà un sensibile aumento delle temperature al suolo. Al pomeriggio ancora una giornata soleggiata sia nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve sia nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Seo e ancora vento che insisterà proprio sui nostri rilievi prealpini orobici. Temperature a clusone che sfioreranno i 20 gradi. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana che vede una settimana caratterizzata dal bel tempo. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso nella giornata di lunedì. Temperature minime di 8 gradi a clusone e massime che, incredibile a dirsi, raggiungeranno i 20-21 gradi a clusone. Martedì ancora più caldo, si farà sentire proprio questo dominio dell'anticiclone che posizionerà proprio i suoi massimi sulle nostre regioni alpine e prealpine. Pressione atmosferica in aumento, bel tempo, zero termico in risalita a 3.300 metri d'altitudine e temperature a clusone pensate di 21-22 gradi, quindi quasi estive. A Bergamo non escludo che la temperatura possa raggiungere anche i 23-24 gradi. Mercoledì e giovedì ancora bel tempo ma l'anticiclone si sposterà un pochino per cui avremo anche un calo delle temperature, vedete soprattutto nella giornata di giovedì ritorneremo un po' nella media del periodo con minime di 4 gradi a clusone e 16 gradi di massime comunque nel complesso una buona giornata. Venerdì avremo qualche nuvole in aumento ma nulla di preoccupante perché il tempo sembra proprio continuare sulla strada delle giornate soleggiate anche per il prossimo weekend. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui su Antena 2, sabato prossimo! Grazie!